Cosa vuol dire divulgazione anzitutto? Divulgazione è una parola che potrebbe essere intesa in senso negativo, brutto, perché ha dentro di sé la parola volgo e oggi quando noi parliamo del volgo lo intendiamo in una maniera un po' diciamo così dispregiativa, però non bisogna confondere ovviamente divulgazione con la volgarizzazione, la volgarizzazione è effettivamente parlare di argomenti che la gente, diciamo così, di poca cultura capisce, mentre invece la divulgazione vorrebbe essere l'esatto contrario, vorrebbe parlare a persone di cultura però di cose che loro non sanno o che magari non sanno bene, per il motivo ovvio che nessuno sa tutto quindi insomma c'è sempre da imparare e soprattutto oggi la scienza non è ancora e forse non lo sarà mai, diciamo così, il riferimento culturale. L'umanesimo rimane il riferimento della cultura, anzi quando si parla di cultura in genere non si sottointende o non si intende anche la scienza. Secondo me questo è naturalmente sbagliato e farò subito il primo esempio per dimostrare appunto che lo è, però mi piacerebbe invece cercare di, e l'abbiamo già fatto anche lo scorso anno che era l'anniversario della morte di Dante, il sommo poeta, in cui se vi ricordate abbiamo parlato anche dei legami che ci sono fra la Divina Commedia e le varie scienze, in particolare la matematica. La cultura è una sola ovviamente, però forse come le medaglie, le medaglie in genere hanno due facce, una delle facce è l'umanesimo, l'altra faccia della cultura è la scienza, però la medaglia è una sola, quindi bisognerebbe cercare di non fare delle finzioni e pensare che solo una delle due facce sia quella importante. Allora, quando comincia la divulgazione scientifica? Anzitutto quando comincia la divulgazione in generale, non soltanto della scienza? Beh, dipende da come uno la intende, la parola si può intendere in una maniera molto con un significato molto esteso, perché divulgazione vuol semplicemente dire portare a conoscenza degli altri ciò che uno ha dentro, ciò che uno vorrebbe comunicare. Il primo modo per divulgare i propri pensieri è semplicemente parlare, quindi il linguaggio in fondo è il nostro primo strumento di divulgazione, è lo strumento di comunicazione, ma la comunicazione è quella, cioè noi mettiamo a disposizione degli altri ciò che abbiamo dentro e se non avessimo un linguaggio che non deve naturalmente essere semplicemente quello orale, per esempio sapete che molti animali comunicano con linguaggi che non sono assolutamente quelli che abbiamo noi. Un libro meraviglioso che vi consiglio, che non è quello di cui volevo parlare stasera, ma così va al mondo, e così vanno soprattutto le mie conferenze, vanno un po' nelle direzioni che vogliono, più che andare nella direzione in cui vorrei portarle io. Dicevo un libro meraviglioso che è uscito molti anni fa, verso gli anni 50, di un signore che si chiamava Von Frisch, che prese il premio Nobel per la medicina, per l'etologia, l'ho preso insieme a Conrad Lorenz, che è forse più famoso di lui, perché Lorenz ha scritto molti libri impegnati anche di quello che si può chiamare cultura più in generale, appunto quella a cui alludevo prima, mentre invece Von Frisch era uno che faceva divulgazione, oltre che ovviamente ricerca, perché non si arriva al premio Nobel facendo soltanto divulgazione, in un campo molto specifico, che è appunto quello dell'etologia. E fu lui a scoprire che le api parlano. Scrisse un bellissimo libro, che vi consiglio perché è un libro straordinario che vi fa vedere che ci sono mondi che a noi sono completamente ignoti, essendo appunto di un'altra specie addirittura animale, e le api comunicano, solo che il loro modo di comunicare, il loro modo di divulgare le notizie che hanno ottenuto, per esempio le bottinatrici che escono dall'alveare, vanno a cercare i fiori da cui poi bisognerà prendere i pollini, li trovano e poi tornano all'alveare, e questo è già una cosa interessante, che lo ritrovino questo alveare, ma una volta che arrivano all'alveare comunicano a tutte le altre api, dicono attenzione che là c'è del miele, o meglio del polline, che ci interessa, andate in quella direzione per quella distanza, che è quello che i matematici chiamerebbero usare le coordinate polari, vai usando quest'angolo in quella direzione per, per esempio, non so, dieci minuti, e effettivamente le api poi trovano quello che queste ambasciatrici della bottinatura, credo che si dica così, nel loro linguaggio ovviamente, comunicano. Come fanno a comunicarlo? Comunicano attraverso la danza. Molti di noi non sarebbero in grado di fare questo, qualcuno forse sì, chi sa danzare, ed è interessante che i movimenti che loro fanno di danza, la velocità con cui fanno questi movimenti e anche la direzione che indicano attraverso i movimenti che fanno di danza, è sufficiente per comunicare queste informazioni alle loro compagne. Le api danzano in una forma fatta così a otto, come se ci fossero due cerchi messi vicini, questi due cerchi hanno ovviamente una retta, che individuano una retta, quella è la direzione che le api indichano, quindi fanno un otto rivolto in una certa direzione e le api capiscono quanto devono andare. E la lunghezza invece viene comunicata dal fatto di muoversi più velocemente o meno velocemente, il ritmo in altre parole di questa danza comunica un'informazione. La cosa interessante è che le api spesso queste informazioni le comunicano all'interno dell'alveare, quindi come fanno a dire vai in quella direzione, quale direzione, siamo al buio, noi siamo dentro una stanza e loro dicono l'angolo che bisogna fare rispetto al sole e quindi le api sanno che quando usciranno guarderanno il sole e faranno l'angolo che le api hanno indicato facendo quel lotto e andranno nella direzione che è stata indicata. Pensate, questo è uno dei modi che le api hanno di divulgare le loro informazioni. Noi abbiamo il nostro modo, non dobbiamo pensare che sia una cosa straordinaria, lo è per noi, è quello che ci definisce come umani, che è il linguaggio. E quindi già parlare e divulgare. Se noi non parlassimo saremmo semplicemente dei solipsisti, avremmo un mondo interiore, chi ce l'ha, ammesso che si possa avere questo mondo, perché per esempio Wittgenstein, ma non solo lui, pensavano che, altri filosofi insieme a lui appunto, pensavano che non si può avere un linguaggio privato, non ci può essere una persona che parla solo con se stesso e che si crea un linguaggio che va bene solo per lui. Il linguaggio è qualcosa di sociale, lo creiamo insieme e lo sviluppiamo insieme. Quindi capiamo che la divulgazione intesa in un senso generico, come ho detto finora, è qualcosa di fondamentale. Noi non ci saremmo come esseri umani, come società, se non avessimo un linguaggio. Però naturalmente non vorrei fare come Harari, che uno racconta la storia del mondo in 150 pagine, sarebbe meglio cercare di focalizzare meglio l'argomento. E quindi cerchiamo di vedere come nella storia si è cercato di divulgare il pensiero e non soltanto appunto i fatti come quello, vai a prendere il polline laggiù in quella direzione, oppure quello che diciamo noi, laggiù ci sono animali, oppure ci sono piante che ci interessano. Credo che il primo esempio che ci sia venuto di divulgazione è molto lontano, naturalmente ce ne saranno stati altri, ma se non ci sono testimonianze storiche, se non c'è rimasto qualcosa di scritto, e questo è il passaggio successivo, non soltanto parlare, ma anche scrivere, mantenere quello che è stato detto sulla carta, o sulla pietra, o su qualche mezzo che ci permetta di preservarlo, non possiamo saperlo. Comunque sappiamo che almeno 2500 anni fa, in quella che era la Magna Grecia, in particolare in Calabria, a Crotone, c'era una confraternita di signori, una setta, la potremmo chiamare così, una scuola filosofica, era una delle più famose scuole dell'antichità e ancora oggi tutti conoscono il nome del caposcuola, che era Pitagora. Tutti hanno sentito parlare del teorema di Pitagora, anzi non so se col permesso degli organizzatori possiamo alzarci in piedi e cantarlo tutto insieme, perché in un triangolo, rettangolo, la somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale al quadrato costruito sull'ipotenusa. Questa non è divulgazione, questo è un teorema, è uno dei sogni che i matematici fanno di poter dimostrare un teorema del genere che ancora dopo 2500 anni la gente non soltanto recita nelle serate d'estate, ma addirittura usa quotidianamente, perché poi queste cose sono anche usate nella matematica e in tutte le scienze che poi usano la matematica come il loro linguaggio. Però Pitagora aveva degli studenti, come molti capiscuola, gli studenti sono pochi, sono quelli che oggi noi chiameremmo i dottorandi, ma aveva anche degli ascoltatori, diciamo così, dei curiosi che nelle sere d'estate a Crotone si radunavano e dicono andiamo a sentire Pitagora che parla, vediamo che cosa ci racconta, chissà cosa hanno scoperto questi pitagorici. Queste due caratteristiche, diciamo così, questi due tipi di gente con cui parlava Pitagora, avevano due nomi diversi, perché a uno appunto si insegnava il mestiere, cioè quelli erano i dottorandi che volevano diventare come il maestro, volevano fare la carriera accademica, diremmo oggi, entrare nell'università, che ancora non c'era perché poi le università le inventarono Platone e Aristotele poi qualche secolo dopo. E dall'altra parte invece c'era il pubblico che era semplicemente curioso, diceva da sentire quello che mi dicono questi signori, questi strani filosofi. Come si chiamava il pubblico che andava a sentire? Cioè come vi avrebbe chiamato Pitagora se fossimo non qui nel nord Italia, bensì nel sud Italia, cioè nella Magna Grecia dell'epoca? Beh, vi avrebbe chiamato appunto uditori, solo che lui non parlava italiano, ovviamente no, parlava greco e quindi vi avrebbe chiamato e così li chiamava acusmatici. Acusticano a che fare ovviamente con l'orecchio, quindi orecchianti, uditori. Gli acusmatici erano coloro che andavano a sentire i filosofi che raccontavano alla gente comune, non del mestiere, quello che la loro scuola aveva scoperto. Ma poi c'erano invece gli studenti, quelli appunto che volevano apprendere il mestiere. E come si diceva all'epoca apprendere il mestiere? Si chiamava, l'apprendimento si chiamava matesis. E allora coloro che volevano apprendere il mestiere, i mestieranti, gli apprendisti, si chiamavano matematici. La parola matematico nasce di lì, non ha nulla a che fare con la matematica come la intendiamo oggi, cioè la scienza dei numeri, la scienza delle forme, la geometria, l'aritmetica, quindi quello è venuto dopo. All'epoca i matematici erano semplicemente appunto i dottorandi, diciamo così, quelli che imparavano il mestiere, gli acusmatici e sareste stati voi appunto che andavano a sentire questi qua. Però di Pitagora non c'è rimasto molto, anzi non c'è rimasto niente, di lui, scritto da lui non c'è nulla, ci sono i famosi versi aurei che sono successivi di secoli e che comunque non hanno nulla a che vedere con le teorie pitagoriche, quindi quelli non si potrebbero nemmeno chiamare né divulgazione né libri di ricerca. Un po' dopo, un paio di secoli dopo invece, cominciano ad esserci delle scuole che ci hanno lasciato effettivamente delle tracce e quelli sono i primi libri di divulgazione che si potrebbero consigliare. Non sono libri scientifici, e quindi li cito velocemente, sono i libri da una parte di Platone e dall'altra parte di Aristotele. Come si fa a riconoscere quali dei libri di Platone e di Aristotele erano libri dedicati agli studenti, ai matematici, perché poi la distinzione ha preso piede, e quali invece erano dedicate agli acusmatici, cioè erano libri che in realtà divulgavano le loro teorie. È molto semplice, perché i libri di divulgazione erano i dialoghi, i famosi dialoghi di Platone, erano scritti in forma dialogica perché il dialogo è uno dei modi migliori per divulgare. Il modo migliore sarebbe di farli i dialoghi, di prendersi una persona e dice parlami di quello che stai facendo, raccontami le tue ricerche, questo lo si fa normalmente negli ambienti scientifici, ma dovunque quando si incontrano, per esempio mi ricordo molto quando vado a fare conferenze nei festival o in occasioni come queste, infatti oggi sarei venuto in anticipo a sentire Belpoliti, perché uno incontra qualcuno che fa cose diverse dalle sue, poi ci si mette a cena con tre, quattro, cinque persone e si dice dimmi quello che hai fatto, quello che hai trovato, eccetera. Questa è la divulgazione più a tu per tu, diciamo così. E si fa in forma dialogica, perché? Perché ovviamente quando uno parla, come sto facendo io, e quello sta pontificando, è vero che poi se uno va con lo zoppo impara a zoppicare, però pontificare non è mai una bella cosa, uno apre la finestra, parlano, tutti stanno sotto a sentire, eccetera. Se uno veramente vuol farsi capire, deve cominciare a cercare di spiegarsi e l'altro magari non capisce, allora lo ferma, gli dice aspetta non ho capito, dimmi questo meglio, questo forse l'ho capito ma ripetimelo e così via. Il dialogo, che è questo continuo di rivieni di domande e risposte da una parte e dall'altra, è il modo migliore per fare divulgazione da una parte e dall'altra, cioè da chi la fa e da chi invece la riceve. I dialoghi platonici da questo punto di vista sono abbastanza esemplari, sono esempi di divulgazione di filosofia, ovviamente, di teorie filosofiche, in particolare le teorie platoniche, alcune delle quali erano complicate, per esempio la teoria degli une, del molti, che poi era una cosa sottile da una parte e dall'altra parte anche semisegreta, perché poi questi greci avevano anche un po' la mania di tenere separati i matematici e gli acusmatici, cioè gli studenti, gli apprendisti e i curiosi, perché insomma non volevano diffondere troppo le loro teorie. Andava bene raccontare qualche cosa, cercare magari di sollecitare la curiosità, dei curiosi per l'appunto, ma non dire troppo. E infatti Platone ha scritto tantissimi dialoghi, tutti voi li potete trovare, c'è addirittura, ci sono ormai delle edizioni intere, per esempio la Bonpiani ne fece molti anni fa un'edizione completa, tutti i dialoghi di Platone. Ma i lavori di Platone invece, in cui lui spiegava ai suoi discepoli quelle che erano le vere dottrine platoniche, dove sono? E non ci sono, e non ci sono non perché non ci sono arrivati, si sono persi e non si trovano più, ma perché lui in una famosa lettera, quella che si chiama la settima lettera, dice chiaramente sulle dottrine della mia scuola non c'è niente di scritto e non ci sarà mai niente di scritto. Cioè queste cose non si scrivono perché poi se uno le ha scritte poi le può portare in giro, le può farle fotocopiare o perlomeno ricopiare eccetera, si diffondono e non è bene, è meglio che il maestro sia quello che spiega e quindi vuole tenere diciamo così il possesso, il controllo delle informazioni, oggi diremmo, e quindi lui dice chiaramente chi vuole sapere queste cose viene a scuola, paga le tasse naturalmente, e in quella che si chiamava ovviamente l'Accademia, che fu la prima università, uno dei primi luoghi in cui si studiava effettivamente e lui le diceva, faceva lezioni private diciamo così a pagamento poi tra l'altro. E quindi le uniche cose che ci sono arrivate di Platone sono effettivamente le opere divulgative. Questo per chi ha fatto filosofia o per chi ha fatto le scuole superiori, soprattutto i licei dove di queste cose si parla perlomeno nella storia della filosofia, potrebbe arrivare come una sorpresa di dire ma come le opere di Platone sono opere divulgative? Dice credevo che fossero le prime grandi opere filosofiche e invece così non è, sono appunto per dichiarazione sua divulgative nel senso che raccontano la superficie delle teorie che lui in realtà stava sviluppando o aveva già sviluppato. Aristotele è un po' diverso perché se voi leggete le opere di Aristotele sono esattamente il contrario, non hanno nulla di divulgativo, sono noiosissime e allora molti pensano che questo fosse una causa, perdono, un effetto dovuto a una causa ovvia, il fatto che il maestro Platone e l'allievo Aristotele fossero di personalità diverse. Uno era più portato a parlare in maniera comprensibile, a raccontare le cose, l'altro invece era una persona più tecnica, faceva anche degli argomenti, si interessava di argomenti molto più specifici. Platone parlava di quello che sarebbe piaciuto molto a Sergio Leone che faceva quei film, vi ricordate, il bello, il brutto, il cattivo, no? Beh, il bello, il brutto e il cattivo sono esattamente gli argomenti di cui parlava Platone, no? Il bello e l'estetica, no? Il cattivo e l'etica e così via, no? Siamo a quel livello lì. Platone era l'antesignano, diciamo così, dei film di Sergio Leone o di quel genere. Mentre invece se uno cerca di leggere Aristotele si accorge subito che quello mica scherza, quello parla di fisica, di biologia, di logica, no? E così via. E allora sembra che ci fossero due tipi diversi di filosofi nell'antichità e soprattutto poiché Aristotele veniva dopo perché era un allievo di Platone, la filosofia fosse cresciuta. Agli inizi era una cosa un po' infantile, si raccontavano queste storielle, no? Questi dialoghi così, poi è arrivato uno che invece, no? Ha cominciato a farla diventare una cosa tecnica. E la cosa invece strana è che non è affatto così. Perché Aristotele, esattamente come Platone, aveva scritto opere divulgative che purtroppo sono andate perdute. Lo sappiamo perché ci sono rimaste le testimonianze. Per esempio Cicerone dice io ho deciso di fare il filosofo, di diventare un filosofo, di dedicarmi alla filosofia, quando ho letto un dialogo, dialogo aristotelico che si chiamava il protrettico, che diceva, era un dialogo, cercava di spiegare, perché si dovesse fare la filosofia, quali era l'utilità di fare la filosofia e di impararla dai filosofi ovviamente. Questo dialogo non c'è più, abbiamo soltanto appunto dei riferimenti di Cicerone e di altri, però sappiamo che Aristotele aveva scritto opere divulgative ed erano ovviamente opere scritte in forma dialogica. Si parlava appunto come se ci fosse maestro allievo, uno che faceva domande e l'altro che dava le risposte e così via. Cosa è successo? Quali erano le opere che si leggevano all'epoca di Aristotele? Quando si faceva per esempio la classifica settimanale dei dialoghi più venduti, all'epoca lo facevano, dice chi è questa settimana? Aristotele, di nuovo, sempre lui. Era uno che faceva un enorme successo e infatti, come dico ancora secoli dopo, Cicerone diceva io ho cambiato la mia vita perché ho letto quel tipo di dialoghi. Era talmente così che le opere tecniche di Aristotele andarono perdute. Aristotele non aveva l'idea di Platone che non bisognava parlare di queste cose però anche lui insegnava all'università, che tra l'altro lui chiamava liceo, quindi vedete come i nomi poi cambiano l'Accademia di Platone in realtà era quello che oggi noi chiameremmo un liceo, una scuola superiore in cui si insegnavano i primi rudimenti. Invece il liceo di Aristotele era invece quello che oggi noi chiameremmo l'università perché era invece non un istituto superiore ma appunto diciamo così un corso di laurea. E ovviamente per gli studenti c'erano degli appunti, c'erano degli appunti che a volte erano gli appunti di Aristotele stesso lui li prendeva e sappiamo tutti come sono quando per esempio si fa una conferenza uno si prende gli appunti chi se li prende ma quelli che si preparano prima, diciamo così, prendono gli appunti però magari c'è soltanto una paginetta, ci sono le cose importanti, uno sa quello che deve dire allora ci ricama sopra. Quella paginetta lì serve a chi fa la conferenza o a chi fa la lezione ma se va nelle mani di qualcun altro rischia di fare soltanto del male perché ci sono cose abbozzate, le cose non sono precise, soprattutto non si sa come riempire il panino diciamo così, manca il companatico, c'è soltanto il pane tostato che si mette sopra e sotto. E quindi ci sono questi appunti. Oppure c'erano ancora peggio gli appunti che prendono gli studenti. Non so quanti di voi hanno insegnato nelle superiori o all'università eccetera e hanno visto gli appunti che prendono gli studenti. A volte uno si mette le mani nei capelli, io quando insegnavo mi ricordo che ogni tanto arrivava qualcuno e diceva ma l'ha detto lei? Dico cosa ho detto? E mi facevano vedere quello che loro pensavano che io avessi detto e che invece poi però avevano scritto, apriti cielo non avrei mai pubblicato cose di questo genere. Purtroppo queste cose qui appunto esistevano ma erano andate perdute. Quindi Platone e Aristotele avevano diciamo così la verginità salva, l'onore preservato e tutti leggevano queste grandi opere. Ma ad un certo punto, secoli dopo, arrivarono i romani. Arriva Silla in particolare che scoprì in una grotta un grande otre dentro il quale, dentro questo otre, c'erano gli appunti delle lezioni di Aristotele. Gli appunti appunto in parte suoi, le tracce delle lezioni e dall'altra parte gli appunti presi dagli studenti alle lezioni di Aristotele. Silla fu felice perché era come scoprire degli inediti che ne so, di Hemingway o di qualche grande scrittore che è morto e gli editori non sognano altro che quello, che poi non ci pensano che se uno è morto e non ha pubblicato quelle cose lì, forse perché voleva tenersi nel cassetto, non è che uno deve pubblicarle soltanto perché la trovate, anzi bisognerebbe rispettare la memoria. Certo, se uno non vuol farle pubblicare dovrebbe farle scomparire, se non l'ha fatta, oppure colpa sua. Sapete tutti che le opere di Kafka, per esempio, noi le leggiamo e le consideriamo dei capolavori. Ma Kafka aveva chiesto al suo esecutore testamentario, Max Brod, mentre stava morendo, dice per favore brucia quelle robe che ho scritto che fanno veramente schifo, no? E lui promise, disse sì stai tranquillo, muori in pace che io quando poi appena hai ispirato, no? Vado di là e butto tutto nel fuoco. Poi però aveva tutti questi manoscritti e dice proprio buttare il castello, no? Il processo e tutte queste cose. Le ha tenute, le ha pubblicate e oggi noi ci esaltiamo per queste cose. Beh, con Aristotele è successo esattamente queste cose. Cioè quel lotre, quel ripostiglio dove si sono trovate le opere tecniche di Aristotele, è stata, è diventata una fucina di cose che sono state ricopiate, stampate, eccetera, e sono quelle che oggi si studiano a scuola, all'università. E quindi c'è quasi una specie di cui preoccupare, che i filosofi studiano che cosa all'università? Da una parte studiano le opere di Platone, che erano opere solo divulgative, come se uno leggesse soltanto i bignami, no? E non i testi. Dall'altra parte studiano le opere di Aristotele, che sono però soltanto degli appunti, no? E che quindi sono lontanissimi da ciò che veramente passava nella testa di Aristotele. Le opere invece di Aristotele divulgative nel frattempo sono state perdute, quindi quelle che leggevano gli antichi come Cicerone, eccetera, non ci sono più. Ci sono rimaste quelle che sarebbe meglio non leggere e infatti se uno oggi legge le opere di Aristotele si mette le mani nei capelli esattamente come si sarebbe messo Aristotele se avesse visto gli appunti dei suoi studenti. Quindi queste non sono le cose che voi dovreste leggere se non avete studiato filosofia e forse non avreste dovuto studiare filosofia se vi fanno studiare queste cose qua. Quelle di Platone invece sì, perché sono le prime opere divulgative, però non sono parte di quello che vogliamo discutere questa sera, perché Platone fa molto poco di scienza. Aristotele ne faceva molto di più, perché ho citato prima per esempio la fisica, faceva astronomia, c'è un trattato sul cielo, faceva logica, il famoso organum che sono sei testi di logica e sono l'inizio di quello che poi diventerà in seguito la grande logica e addirittura la logica matematica in seguito. Però quindi quegli argomenti lì di Aristotele sono importanti, ma quelli di Platone appunto sono un po' così. Ogni tanto però Platone aveva il gusto di metterci degli aneddoti di tipo matematico. Citato prima per esempio il teorema di Pitagora, non a caso si parla di quel teorema in un dialogo famoso di Platone che si chiama il Menone, in cui Platone aveva delle stranissime idee, oggi sembrerebbe un New Age come li si chiama oggi, di questi strani gruppi americani un po' così che si fumano le canne e pensano che il mondo reale sia quello che si vede tra i fumi. Aristotele, perdono, Platone aveva questa idea qua che il mondo reale dove noi viviamo praticamente non esiste, è solo una proiezione, il vero mondo è l'iperuragno che sta lassù. ma ogni tanto aveva idee ancora più strane, per esempio diceva voi venite a lezione, però voi credete di imparare, che questo tra l'altro era anche controproducente dirlo, perché adesso vedrete da quello che vi dico che lui diceva, la cosa a poco senso, dice voi non si impara durante la vita, non si impara non perché siamo duri di comprendogno e non riusciamo a imparare, no, perché tutto quello che noi crediamo di imparare in realtà lo sapevamo già e ci basta soltanto ricordarlo e allora c'è questa teoria che lui chiamava dell'anamnesi, l'apprendimento sarebbe semplicemente portare alla luce, diciamo così, togliere la polvere dalle memorie che noi avevamo dalle vite precedenti, vedete che è un po' il New Age, che credeva che noi fossimo vissuti già prima, arriviamo in questo mondo con tutte le conoscenze che avevamo nelle vite precedenti, ma ovviamente agli inizi ce le siamo dimenticate e quello che noi crediamo essere la nostra maturazione, il nostro apprendimento è soltanto ricordare le cose che già sapevamo. E come fa a cercare di dimostrare questa sua affermazione? Sta parlando appunto con uno dei personaggi del dialogo, non è lui che parla, è il suo maestro Socrate, che non ha lasciato niente di scritto, quindi Platone gli fa dire quello che gli pare piace, perché naturalmente non ci sono testimonianze, e Socrate parla con uno e gli sta dicendo quello che vi ho appena detto, cioè in realtà la conoscenza è soltanto ricordo e l'altro ovviamente non ci crede che era una persona sensata, appunto queste sono le opere divulgative, si parlava magari col falegname o col cuoco che gli diceva cosa ti ricordi? E Socrate gli dice guarda ti faccio una dimostrazione, dice tu c'hai uno schiavo, perché poi noi crediamo che i greci fossero democratici, ma sì, 500 erano democratici, ma tutti gli altri erano schiavi, dice c'è uno schiavo laggiù, dice vieni qua, vieni qua schiavo, allora fa arrivare lo schiavo sul palco, potrei fare, ci sono degli schiavi questa sera, o delle signore che fanno, che aiutano nell'organizzazione, vuoi venire tu che sei fresca di matrimonio, facciamo finta che sei venuto, viene lo schiavo e Socrate chiede allo schiavo secondo te come si fa a raddoppiare un quadrato, cioè tu ti do un quadrato, tu mi devi costruire un quadrato di area doppia e lo schiavo capisce quello che capisce e dice, insomma non lo so, abbia pazienza, io lavoro, voi siete qui che perdete tempo con queste storie, non ho ne idea, e Socrate gli dice dai dai, mentre faceva così con la mia testa faccio vedere, dice dai dai, dice come fai? E lui dice voglio raddoppiare l'area, raddoppio il lato, e lui dice ma come ti permetti? Dice prova a vedere, cosa succede se tu raddoppi il lato di un quadrato? Se c'è un quadrato di lato 1, qual è l'area di un quadrato di lato 1? 1 per 1, quindi è un'area unitaria, se io raddoppio il lato, allora diventa 2 per 2 e il quadrato con il lato raddoppiato ha area 4, che non è 2 volte, è 4 volte, e lo schiavo dice ancora meglio, no, ti ho detto di fare 2, non 4, non è che volevo fare semplicemente un quadrato più grande, e allora dice non lo so, non lo so, dice 1 e mezzo, no, dice così, dice prova a fare, fai 1 e mezzo, qui è un po' più difficile, se avete un quadrato di lato 1 e mezzo, 1,5, quanto fa 1,5 per 1,5? Stiamo facendo accusmatica, non pagate le tasse di iscrizione, quindi non così, non sapete quanto fa 1 per 1, 15 per 15 quanto fa? Ma non sapete le cose più ovvie proprio, l'ho persino insegnato a Lundini, adesso ve lo spiego questa sera, no? Se voi avete un numero che finisce per 5, no? Per esempio 15 o 35 o 65, quello che volete, no? E volete fare il quadrato di quel numero? E' molto semplice, perché il quadrato, anzitutto, poiché il numero finisce per 5, il quadrato finisce per 25, quindi sapete già che al fondo c'è 25, poi bisogna mettere le altre cifre davanti, allora se fate per esempio il quadrato di 1,5, no? Di 15, prendete l'1, il numero dopo, che è 2, li moltiplicate, 1 per 2 fa 2, quindi 225, avete capito? No, facciamo la prova, facciamo il quadrato di 45, allora sappiamo che finisce con 25, poi 45 c'è 4 davanti, il numero dopo è 5, 4 per 5, 20, 20, 25, 2025, quindi stasera andate a casa, avete imparato come fate i quadrati dei numeri che finiscono per 25, ma torniamo a Socrate, il quale dice se tu schiavo, mi hai già detto 2, no? E ti ho fatto vedere che l'area del quadrato è 4, non è due volte, tu fai 1,5, cioè sei più vicino, ma 1,5 per 1,5 fa 2,25, un po' di più di 2, no? E alla fine insomma continuano così a schiaffi, eccetera, finché alla fine lo schiavo capisce, anche perché Socrate lo sta spingendo a forza di schiaffi nella parte giusta, nella risposta giusta e capisce che se voi volete raddoppiare un quadrato dovete prendere la diagonale del quadrato e fare un quadrato che ha come lato la diagonale, perché? Perché se voi prendete un quadrato e lo dividete con la diagonale vedete che ci sono due triangolini così e se voi prendete invece la diagonale e fate un quadrato di quei triangolini diventano 4 e 4 triangolini sono il doppio di due triangolini. Ci sono queste cose in Platone, sono divertenti, sono divulgazione perché è un modo per divulgare il teorema di Pitagora nel caso più semplice possibile, triangolo rettangolo con i lati uguali, cioè triangolo rettangolo isoscele. Poi Pitagora l'ha fatto più in generale, Platone non sapeva farlo naturalmente perché era un filosofo, ma Pitagora sarebbe riuscito, si può divulgare anche quello, eccetera. La divulgazione parte così, parte anzitutto da esempi specifici, da casi particolari e poi cerca di far capire da dove arrivano le idee, questo è il modo in cui si dovrebbe fare appunto la divulgazione e Platone sapeva farla bene, Aristotele sapeva farla ma sono andate perse le sue opere e qual è il primo vero libro invece di divulgazione scientifica che si scrive per quel motivo, perché si vuol far capire qual è la visione scientifica del mondo e lo si scrive anche in una maniera che sia degna dell'argomento, cioè che sia praticamente un capolavoro letterario. È un libro che molti di voi avranno sentito nominare, qualcuno ne avrà anche letto delle parti probabilmente a scuola, non si fa leggere tanto volentieri a scuola perché c'è un cattivo odore. Se uno prende il libro, che adesso vi sto per dire, anzi vi dico che è il libro di Lucrezio, De Rerum Natura, e prova a sentire, annusare le pagine, sente l'odore di zolfo, lì c'è qualcosa che non funziona. E se poi uno lo legge si accorge che effettivamente puzza di zolfo e Primo Levi lo diceva, me l'avessero fatto leggere a scuola quando facevo il liceo, quello sì che mi sarebbe piaciuto come libro e avrei imparato, ma lui dice proprio quello, dice aveva uno strano odore di zolfo, perché? Perché è vero che è un libro di divulgazione scientifica, però ci sono anche tante cose che non piacevano a quelli che della scienza non si interessavano, ma si interessavano invece delle cose che Lucrezio denigrava, cioè la religione in particolare. Lucrezio pensava che gli dèi ci fossero, ma se ne fregassero completamente degli uomini, e anzi che gli uomini fossero proprio stupidi a pregare, a cercare di fare le funzioni, le offerte agli dèi, eccetera, e quelli li guardavano dall'alto, e dicevano anche con questa brutta faccia che ti guardava di sotto, e così via. E come mai però il libro di Lucrezio è un libro di divulgazione scientifica, perché Lucrezio era parte di un gruppo filosofico che era un gruppo ristrettissimo, per più di duemila anni, più di duemila anni, quasi duemila e cinquecento anni, sono state quattro persone al mondo, quattro, che credevano quello che oggi crediamo tutti, e questa è la cosa interessante, cioè che è un po' come quei romanzi di Philip Dick, che sapete che Dick aveva queste strane idee, in cui per esempio al mondo c'è uno solo che sa qual è la vera realtà, tutti gli altri sono degli illusi, e lui naturalmente viene considerato un matto, uno spostato di testa, perché dice delle cose che non stanno nel cielo e nel terra, vanno contro il sapere comune, ma lui è l'unico che veramente sa. Poi Dick faceva anche il contrario, e questo forse lo conoscete perché è diventato un film che si chiama Truman Show, in cui c'è uno che non sa, e tutti gli altri sanno, tutti cospirano contro di lui, e lui fa questa vita senza sapere che poi invece in realtà non è una vita che tutti trasmettono in televisione e guardano al di fuori di quella bolla in cui lui vive, la sua vita e così via. E l'idea è proprio quella, che ci fosse qualcuno, nell'altro caso che ho fatto agli inizi, l'unico che sa veramente come stanno le cose e gli altri non lo sanno. Chi era l'unico agli inizi che sapeva come stanno le cose e che oggi noi tutti consideriamo il nostro padre, diciamo così, scientifico. Era Democrito, anzi in realtà Democrito era già il secondo, perché era l'allievo di uno che si chiamava Leucippo, e Leucippo è meno noto perché ci sono arrivati pochi frammenti di lui, mentre di Democrito ci è arrivato un po' di più, ma questi erano due comunque, Leucippo e Democrito, che pensavano che il mondo fosse fatto di mattoni, o meglio, le case fossero fatte di mattoni, e il mondo fosse fatto anche lui di mattoni, che però si chiamano in una maniera diversa, che si chiamano atomi. Gli atomi sono cose che si chiamano così perché in greco significano atomos, indivisibili. Cioè uno prende una casa e incomincia a smantellare il muro, uno si accorge che vengono giù dei pezzi di calcinacci, eccetera, poi continua finché alla fine arriva ai mattoni. Ecco, nel mondo se uno fa la stessa cosa e comincia a sgretolare il mondo e a cercare di arrivare al punto in cui le cose non si sgretolano più, perlomeno nella visione dei greci, arriva a quelli che loro chiamavano gli atomi. E Leucippo e Democrito, visto verso il 400 prima della nostra era, quindi 2400 anni fa, avevano quest'idea del mondo. Dopo di loro, un paio di secoli dopo, arrivò un signore che si chiamava Epicuro. Epicuro oggi tra l'altro ha una cattissima fama e dovrebbe averla ottima, cioè ha una cattiva fama per i motivi sbagliati, ma quei motivi sbagliati sarebbero ottimi motivi per dargli una ottima fama. Perché noi identifichiamo l'epicureismo con questi, diciamo tu sei un epicureo che vuol dire ti piace sederti a tavola, mangiare e bere, così c'è di male a mangiare e bere. Cioè noi prima, per l'altro prima di venire qui, siamo stati nella mensa dove c'erano le suore, e la batte, noi ci hanno offerto a mangiare e bere, ed era un'ottima cosa, perché dovremmo criticare qualcuno, ma in realtà gli epicurei non erano affatto quello che vengono presentati. Li si presenta così perché avevano questa strana idea del mondo, basato sugli atomi, ed Epicuro era un seguace appunto di Democrito, che venivano considerati come delle persone che bisognava ostracizzare. Questi tre, allora Leucippo, Democrito e poi Epicuro, avevano dunque questa prima idea. Qual era il problema che presentava quest'idea? È che se ci sono gli atomi, quando ci sono due atomi vicini, tra loro non c'è niente. E questo vuol dire che ci deve essere il niente o il vuoto, e questo apriti cielo per tutti i filosofi dell'antichità, il niente, il vuoto, erano cose impossibili. La natura abborrisce il vuoto, questo era uno dei grandi motti dell'antichità. Quindi si pensava che se ci fossero gli atomi ci dovrebbe essere il vuoto, ma il vuoto ovviamente non c'è, dunque non ci sono gli atomi, e allora di cosa parlano questi? Però, duemila anni fa, nell'ultimo secolo, negli ultimi cinquant'anni, prima dell'inizio della nostra era, arriva questo poeta. Questo poeta che si chiama Lucrezio, di cui non sappiamo niente. Se non, cosa non secondaria, che ha scritto un poeta, un poema, che è appunto il Dererum Natura, un poema che è scritto meravigliosamente in latino, e quindi i poeti latini dell'epoca, ma anche coloro che studiano il latino oggi, considerano quello come un grande poema. Ma il problema è che i poemi sono spesso interessanti, non soltanto per come suonano i versi di questi poemi, ma anche per quello che dicono. E la visione di Lucrezio è la visione di Epicuro, infatti per lui Epicuro era il punto di riferimento. Ci sono degli inni ad Epicuro così belli che quando poi la Chiesa arrivò, perché prima della nostra era vuol dire quello, cristianesimo, potrei dire prima di Cristo, mi dà un po' fastidio dirlo, quindi continuo a fare questa locuzione prima della nostra era. Ma quando arriva il cristianesimo, l'idea che ci possa essere un poeta e un poema che sono contrari alla religione, contrari agli dei, eccetera, gli dà molto fastidio. E allora agli inizi dicono questo poema, insomma, bisogna riscriverlo. Però è scritto talmente bene che non si può riscrivere meglio. Allora noi lo prendiamo, solo che gli inni che ci sono lì dentro, agli inizi per esempio, il poema inizia con un grandioso inna Venere. Non mica si può continuare a parlare di Venere durante il cristianesimo. Allora che cosa si fa? Si cancella il nome di Venere e si mette Maria o Madonna. E allora l'inno a Venere di Lucrezio divenna un'inna alla Madonna. Poi si parla di Epicuro, l'inno a Epicuro dice l'uomo che onorò con i suoi pensieri il genere umano. Dice, questo chi è? Dice, via Epicuro. Gesù, no? E così via. E quindi agli inizi gli inni di Lucrezio erano così belli che la Chiesa non voleva perderli. Semplicemente gli diceva, vabbè, non sono fatti per Venere e per Epicuro, li facciamo come inni per la Madonna e per Gesù. Poi però non andava bene perché c'era pur sempre qualcosa che non funzionava e quello che dicevo prima il sapore, l'odore di Zolfo. Allora ad un certo punto la Chiesa dice, basta, questo libro non sa da leggere, no? Non c'era ancora arrivato il Santo Uffizio e naturalmente che arriverà molto dopo, eccetera, i prefetti della congregazione per la dottrina della fede e così via. Però una volta era facile se uno voleva cancellare un libro, come si faceva? Oggi si direbbe non stampi più copie oppure non lo fai vedere in libreria, eccetera. All'epoca bastava dire non lo si trascrive, i libri bisognava ricopiarli a mano, no? Si trascrivevano a mano. Dice, non fate più copie di questo libro e tanto le altre sono deperibili, prima o poi scompaiono e infatti ad un certo punto nei primi secoli della nostra era, dopo Cristo, il libro di Lucrezio scompare. Si sa che c'è stato perché Ciccerone, il solito Ciccerone, ne parla, anzi è proprio lui il più vicino a Lucrezio perché scrive, credo, al fratello in una lettera e dice c'è un libro meraviglioso di Lucrezio che bisogna leggere assolutamente perché è un capolavoro, ma è l'unico che parla di Lucrezio, è l'unico che sembra averlo conosciuto, tanto che molti pensano che in realtà Lucrezio non sia mai esistito e che sia semplicemente lo pseudonimo di qualcuno, forse di Ciccerone stesso, cioè che non voleva prendersi la responsabilità di scrivere, o meglio, che voleva scrivere quello che pensava, ma non voleva prendersi la responsabilità di quello che aveva scritto, allora lo attribuiva a qualcuno, quindi non sappiamo niente di Lucrezio. Oggi se uno va a vedere sull'enciclopedia o sui libri di letteratura latina, si dicono molte cose di Lucrezio, ma sono tutte inventate, sono state inventate da dei pervertiti, in particolare San Gerolamo, che ce l'avevano con lui perché aveva scritto, o con chiunque fosse, perché aveva scritto questo libro e allora si incominciarono a immaginare, vedete, questo è un libro materialista, guardate come parla dell'amore, guardate come parla della morte, Lucrezio era pazzo, aveva bevuto un filtro d'amore, eccetera, sono tutte storie inventate, cioè in particolare proprio letteralmente da San Gerolamo, perché di Lucrezio non sappiamo niente, se non, fatto non trascurabile, che è quello che ha scritto il De Re Re Unnatura, De Re Unnatura c'è, ma all'epoca non c'era, o meglio, c'è stato e non c'era più perché non l'avevano più ricopiata, ad un certo punto sparisce, non ci sono più copie e si sa che c'era stato perché Virgilio, Ovidio, Ciccerone, eccetera, ne avevano parlato, ogni tanto avevano riportato nelle loro opere alcuni versi, qualcuno, soprattutto Virgilio, copiava i versi e non diceva che erano di Lucrezio, succedevano anche all'epoca queste cose, non soltanto al premio Strega Diogena, però altro da quello non si sa, siamo nel quarto, quinto, sesto secolo della nostra era e di Lucrezio rimane solo più la memoria e il suo libro è scomparso, passano i secoli, addirittura un millennio, si arriva nel 1417, 1417 è un'epoca turbulenta in cui ci sono molti papi, le epoche turbulente spesso sono caratterizzate da questi eventi in cui ci sono più di un papa vivente, perché uno si dimette, l'altro lo fan dimettere, poi combattono fra loro, uno si vende il papà, sto parlando dell'altra epoca, non di questa, ma comunque, questa non è ancora finita, non è detto che non funzionerà anche così con questa, ma è comunque, e ad un certo punto c'era uno di questi papi che aveva un segretario che si chiamava Poggio Bracciolini, che era un fiorentino, e era segretario di questo papa che viene fatto dimettere, e questo se ne va in un convento, come fanno i papi che si dimettono, e lui si trova, questo Poggio Bracciolini, si trova senza lavoro, disoccupato, dice che faccio? Siamo nel 1400, nel secolo prima, 1300, c'ho la voce rauca? Ah no, nel caso che venisse la voce rauca, nel secolo prima, 1300, c'erano stati alcuni poeti, in particolare Petrarca, il quale aveva avuto un'idea geniale, Petrarca diceva, ci sono un sacco di opere, non soltanto quella di Lucrezio, che sono andate perdute, dell'antichità, poi tra l'altro all'epoca c'era questo gusto, questo mito dell'antichità, che tutte le cose buone erano già state fatte, dette, scritte, eccetera, dagli antichi, quindi tutto quello che è andato perduto è un gravissimo danno per la cultura, ma forse c'è un modo per recuperarne almeno una parte, perché una delle cose che il cristianesimo aveva fatto, la vedete qua, erano le abazie, i conventi, c'erano all'epoca, adesso qui ci sono le suore che abbiamo visto questa sera, ma non credo che facciano più quello che facevano i frati di una volta, cioè una vita di preghiere e di studi e in parte studi significava ricopiare le cose che ti erano capitate sotto mano, anche quelle proibite, perché intanto chi lo sapeva se le ricopiavi, poi intanto le mettevi nella biblioteca del monastero e lì rimanevano, e Petrarca gli viene questa idea, dice, ma se noi adesso, siamo nel 1300, cominciassimo a girare per l'Europa, siamo ovviamente, 1300 è il pieno della scolastica, del Medioevo e così via, è pieno di monasteri in Europa, dice, se noi andassimo in questi monasteri e andassimo noi, cioè lui e altri come lui, a curiosare nelle biblioteche, va a finire che troviamo delle cose interessanti, e infatti lui comincia, e nel secolo dopo, Poggio Bracciolini che arriva dietro a questa tradizione e dice esattamente le stesse cose, dice, ma io vado, solo che qui intorno a me in Italia, in Francia, ormai ci sono già andati tutti, io vado nel nord Europa, va su in Germania, non si sa bene dove, perché poi non ha lasciato scritto dove l'ha trovata, ma va in un convento e rovistando nelle scartoffie impolverite, impolverate di questo convento, ti trova un'edizione completa del Dererum Natura, lo prende e dice, madonna, qui sono millenni che se ne parla, tutti avrebbero voluto vederlo, ce l'ho, e me lo porto in Italia, arriva in Italia e lo dice un amico, gli dice, sai che ho trovato il Dererum Natura, quello gli dice, ce n'è una coppia sola al mondo, pensate che mondi che erano quelli, l'amico gli dice, me lo fai leggere? E lui, glielo fa leggere, glielo dà, e ci sono le lettere di questo Poggio Bracciolini che cinque anni dopo dice, l'hai finito, stormcrenzo, che insomma, dice, magari ne facciamo un'altra coppia, ce ne sono due, e me lo restituisci, poi ridete, ma il mondo era diverso da oggi, noi con il nostro telefonino, voi Lucrezia, tac, te lo mandano e l'hai già bella che ricevuto, così erano, e alla fine però il libro incomincia, si copiano, poi tra l'altro una volta che ci sono due coppie, poi se ne possono fare quattro, poi otto, poi sedici, poi trentadue, voi sapete che questo è un procedimento che vi hanno spiegato spesso anche nei telegiornali, si chiama crescita esponenziale, ed è una crescita che è difficile da capire, ma il modo più semplice che si può fare per farla capire è quello che si fa, di solito voi prendete un foglio di carta e lo piegate in due, quello avete fatto due, poi lo piegate di nuovo in due, avete fatto quattro, poi lo piegate in due, fa otto, sedici, eccetera, piegatelo cinquanta volte, provatelo, avete un foglio di carta? E la cosa interessante è che se voi lo piegate cinquanta, un foglio di carta, ammesso che riusciate, perché poi naturalmente ci sono le leggi fisiche che dopo un po' dicono questo non si piega più, eccetera, ma voi potreste tagliarlo e metterlo così, se lo fate per cinquanta volte questo fatto di raddoppiare o di dimezzare il foglio, arrivate fin sulla luna, quindi è una cosa enorme, ed è questo il motivo per cui la popolazione che quando cresce in maniera esponenziale diventa preoccupante, perché nel giro di poco tempo si raddoppiano e quando continua a raddoppiarsi, agli inizi non cambia molto, due, quattro, otto, sono piccoli, ma quando arriva a 4 miliardi, 8 miliardi, 16 miliardi e qui le cose finiscono male, e allora le coppie incominciano per la punta girare e la fortuna vuole che siamo agli inizi del Quattrocento, Lucrezia arriva nel momento in cui c'è il rinascimento, il rinascimento è anche quello, è l'idea di dire adesso va bene, abbiamo avuto mille anni e più di cristianesimo, magari basta, cominciamo a riguardare in avanti, ma magari se vogliamo guardare indietro, prima, andiamo a vedere i classici, e allora l'idea che ci sia un classico come Lucrezio in circolazione eccita tutti gli animi, tutti voi conoscete per esempio la Venere di Botticelli e la Primavera di Botticelli, da dove arrivano la Venere di Botticelli e la Primavera di Botticelli? La Venere arriva dalle prime righe di Lucrezio, che incomincia così, Ene adum genetrixo mi nom di vomque volumma, Alva Venus, era lei, l'Alma Venere, che in realtà era l'immagine della natura, e Botticelli dice ah che bello, perché poi i pittori fanno così, le due righe di un libro, faccio un bel disegno, e fa l'immagine della nascita di Venere, poi va avanti, lo legge tutto, ad un certo punto negli ultimi libri quando Lucrezio parla, adesso vi dirò brevemente di che cosa parla, abbiamo fino a mezzanotte, tu mi hai dato, quindi sto parlando del primo libro di divulgazione, e no, Mariangelo mi ha detto che posso parlare fino a quando c'è qualcuno che sta a sentire, quindi voi sapete che potete fare, voi sapete che Haydn, il compositore Haydn, che era un compositore di corte, lui viveva ovviamente in un tempo molto diverso da quelli di cui stiamo parlando adesso, era al servizio del margravio, e ovviamente c'aveva lo stipendio, e questo margravio d'estate andava in campagna, andava in queste ville, stava con i suoi amici, e questi erano musicisti che dovevano suonare per i potenti che li stipendiavano, e in genere stavano un mese, due, poi tornavano in città, ma un anno, stavano un po' troppo, e alla fine, però non si può dire al datore di lavoro, potremmo tornarci una casa, c'avevano le famiglie, i figli, eccetera, il nostro letto, e così via, come glielo si dice? Allora Haydn scrisse una sinfonia, e all'epoca dovete immaginare non c'erano le luci elettriche, oggi stiamo parlando dell'antichità, quindi, c'avevano però tutti i loro leggi, e c'erano le candele, vicino ai leggi, dove c'erano gli spartiti, questi guardavano con la luce della candela, e allora lui scrisse questa sinfonia, in cui c'erano tutti naturalmente i violini con tutti gli strumenti, e nell'ultimo movimento della sinfonia, alla fine, l'ultima fila dei violini, suona il suo pezzo, poi finisce, tutti soffiano sulla candela, e gli altri continuano, poi la penultima fila, eccetera, finché alla fine rimane il primo violino da solo, che fa questo lamento finale, soffia sulla candela, se ne va, e Margavio capisce l'antifona, e dice, vabbè, è ora di tornarsene a casa. Questo l'ho detto, perché dall'ultima fila, piano piano, vedo che già qualcuno si sta alzando, andandosene, potete andarmene, quando io vedo che rimangono soltanto più Mariangelo e gli altri organizzatori, capisco, e chiuderò la conferenza. Chiuso questo aneddoto su hiding, modestamente paragonato per l'appunto al conferenziere di questa sera, che cosa succede? Succede appunto che il rinascimento incomincia ad usare questo libro, perché? Come ispirazione anche artistica, come avevo detto, quelli sono soltanto due degli esempi che si possono fare che ci sono nel libro di Lucrezio. Perché? Perché Lucrezio, a differenza di tutti quegli altri poeti, compresi quelli che verranno dopo, perché l'altro anno ho citato prima era l'anniversario di Dante, ma Dante, che viene 1300 più 50, quindi circa 1400 anni dopo Lucrezio, è molto più antico di lui. Lucrezio è molto più moderno in altre parole, perché Dante che cosa ci fa? Una di queste storie che sembrano i romanzi di Dan Brown, un'angeli e demoni, dove va a fare il giro? Nell'inferno, il purgatorio, il paradiso, ci sono gli angeli, i demoni, le pene capitali, i peccati, una cosa che oggi farebbe, se non fossimo, diciamo così, con le fette di prosciutto sugli occhi, uno direbbe, sì, sarà Dante, sarà scritto bene, però le cose che dice. Lucrezio non è così, è uno dei casi rari di un poeta che dice le cose sensate, talmente tanto, che quando ci fu un contemporaneo di Dante, per esempio, che si chiamava Cecco d'Ascoli, che è poco noto perché è finito male, Dante in fondo se n'è andato da Firenze, è vissuto a spese di can grande della Scala, finché ha potuto, ha scritto la dinacomedia e oggi tutti lo osanniamo. A parte che i suoi contemporanei non tutti lo osannavano, l'altro anno credo di aver citato il fatto che Petrarca, che ho citato poco fa, quando leggeva Dante, diceva Dante scrive per la gente d'osteria, perché per un poeta come Petrarca le cose che scriveva Dante insomma erano un po' dei fumetti, diciamo così, ma i suoi contemporanei, questo Cecco d'Ascoli per esempio, che scrisse anche lui un poema simile a quello di Lucrezio, che si chiamava La Cerba e che ha la stessa struttura e che parla delle stesse cose che se riesco magari questa sera vi dirò anche se non apro troppo parentesi e Cecco d'Ascoli ad un certo punto sprezzantemente dice qui non ci sono Paoli né Francesca e qui non si canta al modo delle rane addirittura dice che non sono come Dante che gracchia e che ci mette quegli episodi strappalacrime di Paoli e Francesca qui parlo di cose serie bene, parliamo di cose serie di che cosa parla il libro di Lucrezio e questa è la cosa straordinaria che il libro di Lucrezio parla del mondo la natura delle cose le cose sono tutto ciò che c'è intorno a noi qual è la loro natura notate che natura è una parola che all'epoca non esisteva perché Lucrezio fa anche questo Lucrezio era un poeta latino e oggi noi pensiamo oh che meraviglia parlava la lingua più bella del mondo quello lo credete voi ma lui no non lo credeva affatto diceva io sono costretto a scrivere in questa lingua barbara che è il latino quella che parliamo noi romani la lingua vera quale è il greco e i greci cosa pensavano che fosse il sanscrito naturalmente perché noi siamo indo-europei ma oggi noi abbiamo le visioni un po' così pensiamo che il latino fosse così e Lucrezio lo dice nel suo libro dice io sono costretto a raccontare delle cose che i greci hanno raccontato nella loro lingua alta nel greco e come faccio a tradurla in questa lingua barbara che parliamo appunto noi romani che è il latino a volte me le devo inventare a volte faccio dei calchi cioè prendo la parola greca e la ricopio tale quale e la faccio diventare come facciamo oggi noi con l'inglese che usiamo tutti questi inglesismi nella lingua e forse faceva anche all'epoca ma qual è una delle parole che Lucrezio ha inventato? Natura noi oggi come non c'era la natura certo la natura c'era non c'era la parola natura perché? perché i greci usavano una parola diversa usavano physis che era una cosa molto diversa e soprattutto natura è qualcosa di statico è ciò che c'è appunto come dice il titolo del suo libro ma per i greci non era ciò che c'è ma c'è ma la natura era ciò che diveniva era un qualche cosa in processo divenire e allora Lucrezio prende il verbo nascere nascitura ed è la natura per i greci era quella qualcosa che è in continuo divenire quindi è sempre lì che sta per nascere continua a nascere in ogni momento siamo tra l'altro in primavera ormai in estate abbiamo visto quando la primavera arriva continuano nascono i fiori nascono le piante ritorna tutta la vita così e lui dice bene prendiamo allora questo cerchiamo di tradurre questa parola physis che noi non abbiamo in qualcosa che gli assomigli prendo il verbo nascere nasco poi faccio il fatto che qualcosa sta per nascere nascituro e poi lo contraggo e faccio diventare natura natura è qualcosa che è in continuo divenire per l'appunto e cose la natura delle cose Lucrezio non usava cose noi usiamo natura perché abbiamo fatto il calco abbiamo preso la parola latina e l'abbiamo mantenuta nell'italiano ma i greci e i latini non usavano cosa per le cose usavano res e infatti lui quello usava noi come mai usiamo cose per le cose perché noi pensiamo che le cose siano cause e infatti la parola cosa è una contrazione di causa siano le cause delle nostre percezioni come facciamo a sapere di cosa è fatto il mondo il mondo è fuori noi lo percepiamo da dentro l'unica cosa che noi possiamo sentire del mondo percepire del mondo è ciò che i sensi ci permettono di percepire quindi la vista ci dà delle immagini gli orecchi ci danno dei suoni il tatto ci dà delle sensazioni così il gusto e così via e allora le cose sono le cause delle nostre percezioni allora la natura delle cose che cos'è è il continuo divenire delle cause delle nostre percezioni capite cosa c'è dietro queste poemi che usavano queste lingue che stavano appunto crescendo all'epoca e Lucrezio è meraviglioso dal punto di vista proprio della lingua ed è quello che interessa ovviamente i letterati gli umanisti eccetera ma a noi interessa la sostanza cioè il fatto che lui ci racconti appunto la natura delle cose come è fatto il mondo questo sarebbe un altro titolo il mondo come è fatto dipende a che punto da che punto di vista lo vediamo lui dice ok allora facciamo dividiamo in tre perché poi tre numero perfetto anche Dante divide inferno purgatorio paradiso ma qui siamo più seri lui che cosa fa microcosmo mondo a misura d'uomo macrocosmo e microcosmo cosa vuol dire vuol dire che le cose piccole gli atomi perché è lì che lui parte lui è appunto come avevo detto si ispira a Epicuro cerca di raccontarci come è fatta la natura delle cose sotto quello che noi percepiamo lui ce lo dice gli atomi non li possiamo vedere sono troppo piccoli perché i nostri sensi sono come delle reti lui dice e le reti hanno delle maglie e queste maglie lasciano passare tutte le cose che sono più piccole di loro fermano le cose che sono più grosse quando andate a pescare i pesci piccoli scappano e però rimangono quelli che sono più grossi delle maglie e lui dice quindi noi non potremo mai vederli gli atomi e oggi ancora non li vediamo ma c'è un motivo diverso oggi legato alla meccanica quantistica al principio di indeterminazione non possiamo vedere gli atomi perché vedendoli andremo a interferire con loro e non possiamo far altro che interferire con altri atomi che quindi creano un gran pasticcio quindi aveva ragione in questo e la cosa straordinaria è che ha avuto ragione in tantissime cose cioè quando noi leggiamo il De Re Re Unnatura io vi ricordo l'ho letto un paio di volte prima di lavorarci sopra e dicevo mamma mia ma qui c'è tutto qua sembra di vedere la scienza moderna ed è veramente straordinario allora il mondo a misura di atom l'atomismo l'atomismo ed è straordinario anche perché uno legge e dice ma io questo l'ho già sentito perché a parte l'inizio vi ho detto l'innovenere poi dopo la tirata contro la religione gli dei cattivi eccetera poi finalmente dopo qualche pagina dice ok adesso partiamo e incomincia in questo modo ci sono tre lunghi paragrafi e il primo paragrafo incomincia dicendo al mondo niente si crea al mondo niente si distrugge al mondo tutto si trasforma uno dice ma scuro ma questo è Lavoisier è certo che è Lavoisier perché infatti Lavoisier aveva letto poi nel settecento Lucrezio e di lì partì diciamo così il fondamento della chimica moderna ed è solo uno dei tanti esempi appunto che si possono fare di gente che ha letto quel libro lì e che di lì è partito Newton per esempio è un altro che diceva è Lucrezio sì che è la vista giusta Lucrezio poi tra l'altro essendo un poeta usava queste sue arti diaboliche del linguaggio e dell'immaginazione per farci capire le cose che la scienza spiegava dell'epoca ma anche dei nostri giorni in una maniera da rendercela comprensibile io ho appena detto che lui diceva gli atomi non si possono vedere proprio perché i nostri sensi sono reti con le maglie troppo larghe e le fanno passare e non li bloccano però possiamo immaginarcelo per esempio lui dice guardate quando aprite una finestra o magari anche adesso si vede quando aprite una finestra e fuori c'è il sole arriva un raggio di sole e subito vedete questo pulviscolo atmosferico che si muove ecco lui dice vedete quelli potrebbero essere gli analoghi degli atomi che noi non vedevamo prima che però ci sono però attenzione e lo dice chiaramente quelli non sono atomi quelli che vedete le particelle che voi vedete muoversi nel pulviscolo atmosferico poiché le vedete non possono essere gli atomi che sono invece cose più piccole di queste e nei primi due libri lucrezio parla appunto del mondo atomico a livello atomico poi nel terzo e nel quarto parla del mondo a livello d'uomo a misura d'uomo e che allora di che cosa parla parla di quello che ovviamente parlano normalmente i poeti cioè tutto sommato la vita l'amore e la morte Borges diceva beato Omero che ha già scritto tutto dice perché noi che cosa possiamo parlare di che cosa possiamo parlare noi letterati diceva Borges che poi comunque ha scritto delle cose meravigliose pure lui dice Omero nell'Odissea e nell'Ili ha già fatto le cose più importanti cioè l'amore la guerra e i viaggi e tutti gli altri poi hanno raccontato le stesse cose ciascuno a modo suo ciascuno con il linguaggio della sua epoca eccetera però più di chi non si va e allora anche Lucrezio fa questo racconta per esempio l'amore e la morte però lo racconta dal punto di vista materialista che è un punto di vista al quale noi benché siamo una società moderna tecnologica scientifica eccetera che dovrebbe essere materialista non siamo abituati e quando parla dell'amore per esempio è anche una cosa abbastanza imbarazzante perché fa dei ragionamenti e degli apprezzamenti che sono appunto molto materialistici oggi contrarissimi a quello che è l'opinione comune cosa che poi i poeti i musicisti per esempio hanno ripreso Selin Rasin e così via ma oltre al nostro mondo che cosa c'è c'è il mondo più in grande prima c'era quello più in piccolo gli ultimi due libri sono sei in tutto quindi due 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 gli ultimi due libri sono invece il cosmo diciamo il macro cosmo che è l'opposto del micro cosmo l'idea di macro di lucrezio era abbastanza piccola perché per loro il macro cosmo gli antichi era la terra che comunque era una cosa enorme quando non si poteva viaggiare perché se voi pensate ancora nell'ottocento fino alla fine dell'ottocento c'erano moltissime zone inesplorate della terra ancora che non si erano raggiunte i poli per esempio sono stati raggiunti agli inizi del novecento ancora quindi pensiamo a duemila anni fa quello era un mondo enorme anzi c'erano luoghi del mondo che non si conoscevano nemmeno l'America come era ovvio era 1500 anni di distanza ma non soltanto l'Antartide per esempio l'Africa era praticamente soltanto il Nord Africa l'Asia se ne conosceva una parte ovviamente c'era già l'impero cinese però i contatti fra mondi diversi erano ancora molto labili e tra l'altro avvenivano attraverso un numero enorme di filtri che distorcevano tutto quindi effettivamente per loro la Terra era già macrocosmo ma poi c'erano ovviamente i pianeti le stelle c'erano i fenomeni atmosferici e i fenomeni astronomici per esempio il sorgere e il tramontare del sole della luna il moto dei pianeti i vulcani tutti gli agenti atmosferici le piogge i tuoni i fulmini eccetera e tutto questo è il soggetto del libro di Lucrezia quindi io vi consiglio leggete Lucrezia perché veramente questo è secondo me forse il più bel libro di divulgazione che sia mai stato scritto perché parla veramente della scienza ne parla in una maniera che spesso anticipa quello che la scienza avrebbe fatto al punto che io dico tra l'altro Lucrezia ha dei difetti il primo difetto è che parla in latino e questo non sarà stato un difetto per lui anche se lui lo percepiva in quel modo ma per motivi diversi ma è un difetto per noi che invece parliamo italiano e il latino qualcuno di voi l'avrà imparato a scuola ma pochi credo di voi riescano e di noi naturalmente riescano a leggere direttamente i testi in latino è una fatica di leggere quel vocabolario con il dizionario eccetera e poi ti scappa sempre tutto uno dice vabbè lo leggo in traduzione grazie ma chi le fa le traduzioni e nel caso dei testi latini le fanno i latinisti i quali che cosa sono sono degli umanisti e allora il problema dei latinisti è che quando uno traduce un testo classico pensa che sia un testo classico che dunque parla di cose che non importano perché l'importante è come sono fatti i versi quali sono le parole che si usano i ritmi i metri e così via nel caso di Lucrezio questo è un errore enorme perché il contenuto è importante tanto quanto se non più della forma che invece viene usata nel caso di Dante è il contrario è meglio dimenticarsi di cosa parla Dante se uno ci fa caso si mette le mani nei capelli e non lo legge devi soltanto sentire il suono delle parole senza nemmeno preoccuparti di quello che dice mentre invece nel caso di Lucrezio ti devi dimenticare del suono delle parole perché ti distrae e devi invece badare a quello che invece lui sta dicendo e io ricordo come ho detto che anni fa lo leggevo e ogni tanto leggevo queste traduzioni e dicevo ma non si capisce assolutamente che cosa vuol dire e leggevo un'altra traduzione e se ne capiva ancora meno diverse naturalmente perché quando uno traduce parola per parola o comunque pensa soltanto al suono delle frasi finché ho deciso di tradurlo in prosa naturalmente con l'aiuto di latinisti uno dei quali è Ivano Dionigi che molti di voi conosceranno che è probabilmente il più grande conoscitore di Lucrezio in Italia che si è assoggettato alla fatica di dover parlare con uno scienziato con un matematico dei contenuti di Lucrezio ma insomma è stata una bella esperienza e quello che ho fatto è un'edizione non è che sto facendo la propaganda al mio libro perché intanto quello sono passati tanti anni e non so nemmeno se sia ancora in circolazione ma la cosa interessante è che di solito quando uno fa una traduzione che cosa fa? A fronte ci mette il testo originale ora però non viene in mente che se uno sapesse leggere il testo originale non ha bisogno della traduzione non la legge e allora quello è semplicemente inutile io ho deciso allora di non mettere il testo originario di basarmi sulle traduzioni che già esistenti e di metterle insieme con l'aiuto di Dionigi e di altri e a fronte di mettere dei commenti cercando di dire guardate che qui Lucrezio sta dicendo delle cose che oggi noi sappiamo Lucrezio è talmente onesto quando parla e quando scrive che a volte dice per esempio quando parla degli eclissi di sole non tanto per dirne una l'eclissi di sole è un fenomeno strano perché uno vede il sole e ad un certo punto il sole soscura ogni tanto si vede che diventa buio tra l'altro chi di voi ha visto un eclissi di sole sa che è una sensazione molto strana gli animali si fermano di colpo viene buio un buio strano perché non è proprio completamente buio come nella notte però è anche una cosa una sensazione abbastanza paurosa infatti gli animali così la percepiscono eccetera e lui si chiede si pone le domande che si fanno gli scienziati dice ma come mai il sole è oscuro e dice onestamente in quella occasione ma in tante altre dice non lo so ci sono tante possibili spiegazioni io vi dico quelle che ho sentito che mi sono venuti in mente che qualcun altro ha detto e poi un giorno chi vivrà vedrà e dice per esempio la cosa più ovvia è che il sole come è fatto deve essere tante fiammelle messe insieme perché noi abbiamo le candele con una fiammella quella una luce enorme saranno tante candele messe insieme tante fiammelle e allora queste fiammelle come mai stanno insieme vabbè questo è un altro problema per un altro capitolo ma ad un certo punto ogni tanto si sciolgono e diventano tutte così e allora le fiammelle lontane non si vedono più e il sole scompare e poi dopo un po' si rimettono insieme e dice questa è una bella spiegazione un po' fantasiosa per spiegare l'eclissi poi dice magari non è così ma sembrerebbe quasi che ci fosse qualcosa che gli passa davanti non può essere la luna perché la luna la vediamo di notte questi sono i ragionamenti che facevano però sembra una cosa tipo la luna che gli passa davanti e che lo oscura e così via e allora uno quando vede pagine di questo genere può dire oggi il tempo non è passato in vano per esempio sappiamo che l'eclissi funzionano nel secondo modo non nel primo non è che il sole si scioglie anche la luna e poi si rimette insieme bensì c'è qualcosa che gli passa davanti eccetera eccetera oppure lui a un certo punto fa delle cose molto interessanti perché ci sono tutti i fenomeni atmosferici dice per esempio i fulmini cosa sono i fulmini qualcuno dice che sono le cose le saette di Giove e lui dice a me pare tanto strano perché mi raccontano che sul Campidoglio a Roma c'è il Tempio di Giove Capitolino e un giorno è arrivato un fulmine sul Tempio di Giove Capitolino ma allora Giove è deficiente cioè che si tira il fulmine sul suo po' questa è la dimostrazione che non può essere Giove è interessante perché oggi qualcuno di voi ride poi io la faccio anche un po' più grossa di quello che la fa lui diciamo ma cerca di dare delle spiegazioni razionali e dietro c'ha sempre quest'idea che ovviamente quel tipo di spiegazioni miracolistiche di credere che la peste arriva perché qualcuno ha fatto un peccato o il Covid arriva che l'han detto anche a Radio Maria che trovano sempre la stessa giustificazione per qualunque cosa brutta arriva al mondo che siamo un popolo di peccatori e Dio ci punisce e così via e lui spiega queste cose cerca di dire ma no le eruzioni vulcaniche le piogge le tempeste i fulmini eccetera sono fenomeni atmosferici non hanno niente a che vedere con gli dèi che intanto non hanno niente a che vedere con noi e così via ma la cosa più straordinaria è che ad un certo punto per esempio quando parla del pulviscolo atmosferico a cui ho accennato prima lì si vede che c'è questo moto incessante di queste particelle dell'atmosfera e dice delle cose che oggi fanno venire in mente a noi ma soprattutto a uno come Maxwell che è stato in realtà il padre della meccanica statistica della teoria che è atomica che dice che in realtà per esempio i gas non sono altro che fatti del movimento di tante molecole che stanno per esempio dentro un contenitore battono contro le pareti e quello che noi chiamiamo pressione temperatura e volume sono semplicemente cose macroscopiche che descrivono questo moto microscopico delle particelle e ci sono le testimonianze di Maxwell che a un certo punto legge la traduzione che viene fatta in inglese del libro di Lucrezio e dice io sto leggendo delle robe che non so cosa vogliono dire perché le dice uno di duemila anni fa ma a me sembrano tanto le cose che sto dicendo io oggi cioè lo dice lui e allora davanti a fronte ci mettevo queste citazioni dice Maxwell di questo passo dice attenzione questa è una bellissima descrizione del moto delle particelle in un gas per esempio ad un certo punto traducendo quando Lucrezio parla di tutto quindi parla anche per esempio dell'arrivo dell'uomo della formazione delle società eccetera e dice ad un certo punto una roba che tradotta sembrava dire dice a ciascuno secondo le proprie necessità perdone a ciascuno secondo le proprie necessità da ciascuno secondo le proprie possibilità e uno dice ma non è possibile eppure Marx e allora sono andato a vedere e dico ma Marx avrà letto Lucrezio letto Lucrezio Marx ha fatto la tesi su Lucrezio e su Democrito allora si scopre che dice ah hai capito cosa succede poi leggi le cose di Darwin e ci sono per esempio degli argomenti contro la Marx siamo 2000 anni prima di la Marx no 1700 anni prima e dice perché non vi crediate che voi ci avete i denti fatti in un certo modo perché potete così mordere in quel modo no ci avete i denti fatti così e allora potete mordere in quel modo lì cioè il dente non è stato creato perché voi faceste quelle azioni ma voi fate quelle azioni perché avete i denti fatti in quel modo lì cioè è l'organo che crea la funzione e non la funzione che crea l'organo ma questo è il motto del darwinismo contro il lamarchismo allora dico vabbè allora vado a vedere se Darwin ha mai letto Lucrezio e c'è uno che gliel'ha chiesto perché ovviamente sono domande che quando era vivo sono domande che uno si fa andarono da Darwin a dirgli ma lei l'ha mai letto Lucrezio perché qui ci sono delle pagine che le ha copiate tale e quale e lui disse no non l'ho mai letto ah vabbè per una volta no ma uno però dice ah aspetta un momento perché tuo nonno che si chiamava Erasmus Darwin il nonno l'aveva letto altro che e uno può dire vabbè non è che le letture del nonno passano ai nipoti le letture no ma i libri del nonno sì e quando il nonno di Darwin Erasmus Darwin aveva letto Lucrezio si era talmente sorgiasmato che ha scritto due poemi nella forma di Lucrezio e il nipote aveva letto i poemi del nonno quindi lui copiava il nonno il quale aveva copiato Lucrezio e quindi vedete questo è veramente un libro di divulgazione perché parla della scienza ai suoi tempi si capisce che cosa sapevano e cosa non sapevano e ne sapevano molte di più di quanto noi ci immaginiamo che ne sapessero perché noi siamo abituati a pensare che gli antichi non sapessero niente e ci sbagliamo di molto non sapevano tutto e nemmeno noi sappiamo tutto quindi è una via metà e soprattutto come dicevo c'è molta gente che poi in seguito le alette come gli artisti come Botticelli eccetera o Newton o così via appunto Marx eccetera che hanno usufruito di questo testo meglio di quello sarebbe difficile farlo però non si sa mai al mondo si riesce a fare anche meglio di quello per esempio e passo al secondo libro tu dici c'ho ancora due ore e mezzo quanto dieci ore c'ho ancora due minuti allora velocissimamente vi dico ma no ma io ho spiegato cosa devono fare non si è alzato ancora nessuno perché c'è anche il rischio che si siano dormentati tutti no quindi dormono dei sonni tranquilli ma c'è l'ora legale l'ora che l'abbazia che ne sa dell'ora legale siamo un'ora avanti quindi no possiamo parlare ancora ma comunque allora facciamo dieci minuti velocemente dettovi questo in dettaglio su Lucrezio vi dirò più concisamente quello che vi consiglierei di leggere nella letteratura divulgativa scientifica ho citato agli inizi Calvino Calvino ha scritto quel bel libro non l'ha scritto perché in realtà è una raccolta di articoli che lui ha fatto nel corso della sua vita ma è un bellissimo libro che si chiama Perché leggere i classici un capitolo tra l'altro di quel libro è su Lucrezio ovviamente perché Lucrezio era uno dei testi di riferimento ah stiamo parlando di Lucrezio ma comunque no era uno dei testi di riferimento di Calvino e infatti nelle elezioni americane lui spesso lo cita perché è il maestro di tutti quelli che pensano in una maniera razionale anzi e qui può essere utile perché Calvino pensava che ci fosse quella che lui chiamava una linea di forza nella letteratura italiana che è italiana ma che in realtà parte anche da prima perché per esempio chi è che ha letto in Italia Lucrezio dei nostri grandi poeti beh l'ha letto sicuramente Leopardi Leopardi sappiamo che era un lettore vorace abbiamo le lettere che suo padre scriveva all'inquisitore perché siamo nell'ottocento ma ancora era così all'epoca e il papà di Leopardi scriveva all'inquisitore e dice Minenza guardi non so se voi siete andati mai a casa di Leopardi a me è capitato quando c'era ancora il suo discendente il quale tra l'altro era un tipo stranissimo perché girava per la città con una sciarpa di Leopardi tanto per far capire che dice se non l'aveste capito sono io Leopardi però era una persona squisita mi ha fatto fare tutto il giro della casa e così via e si vede ancora adesso c'è questa bacheca diciamo così chiusa a chiave libri proibiti questi erano i libri che uno non poteva leggere perché la chiesa non voleva e ancora nell'ottocento Lucrezio non si poteva leggere prima avevano fatto sì che non si potesse leggere perché l'avevano cancellato dalla memoria altro che cancel culture quelli l'avevano fatto in latino già duemila anni fa ah ups mi sono dimenticato che quelli l'avevano sto parlando di fuori e il papà di Leopardi che scrive all'inquisitor dice c'ho questo bambino c'ha 12 anni dice ha letto tutto nella biblioteca se lei non gli fa leggere i libri proibiti questo comincia a toccarsi mi diventa gobo poi ce l'ha lei e infatti così fu però l'inquisitor diede il potere la possibilità di aprire la biblioteca e lui lesse Leopardi Leopardi lesse Lucrezio e poi come disse poi Carducci dice è diventato il Lucrezio della poesia italiana e Calvino pensava che ci fosse questa linea che dicevo questa linea di forza della letteratura italiana che è una letteratura che parla di cose sensate in altre parole se posso esprimermi in questo modo un po' volgare diciamo così ma stiamo facendo divulgazione una letteratura che mira i contenuti e da dove parte secondo Calvino questa letteratura parte dall'Ariosto sapete che all'epoca dell'Ariosto c'era la grande diatriba tra chi era tra chi fosse il più grande scrittore italiano e voi penserete a Ariosto e Dante no Dante non c'era proprio perché Dante incomincia a diventare il padre della patria verso il 700 in realtà nell'800 poi diventa quando si comincia a fare i moti e così via quindi è soltanto una cosa degli ultimi due secoli all'epoca erano Ariosto e Tasso e il mondo culturale era diviso fra questi due chi stava per l'Ariosto chi tifava per il Tasso chi di voi ha letto una pagina anche solo del Tasso si può chiedere ma chi mai può tifare per il Tasso ma quello è un altro problema vuol dire che io sto dalla parte dell'Ariosto eccetera Ariosto che poi arriva dove uno dei critici per esempio che prese critici letterari che prese le parti dell'Ariosto chi era? era Galileo Galilei voi direte ma Galileo Galilei che era uno scienziato non un critico no perché la scienza non c'era quando Galileo agli inizi incominciò a lavorare lui faceva il letterato faceva appunto un critico letterario scriveva poesie alcune bellissime una che si chiama Contro il portare la toga lui era un anti accademico era un toscanaccio di quelli così eccetera voi qui sapete siete vicini o forse dentro addirittura no non siete dentro per fortuna vostra così e comunque quando poi arrivò il momento di scrivere le cose della scienza che stava nascendo cioè delle scoperte che lui stava facendo agli inizi scriveva in latino il sidero snunzius in cui annuncia le scoperte che fece col cannocchiale sono scritte in latino ma qualche anno dopo nel 1632 quando esce il famoso dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo beh quello è in italiano forse la più grande opera di letteratura italiana adesso questi come direnno per favore la smettano perché lei dice cose che non conosce ma l'affermazione che Galileo è stato il più grande scrittore non saggista soltanto il più grande scrittore della letteratura italiana è di Italo Calvino che non a caso come vi dicevo partiva da Riosto passava attraverso Galileo Leopardi e poi probabilmente se stesso che sono appunto poeti scrittori eccetera che si interessano di quello che c'è che parlano per esempio come Leopardi della Luna che fai tu luna in cielo dimmi che fai eccetera parlano di cose così non di queste cose romantiche e esistenzialiste che invece di solito non sono il contenuto della letteratura e il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo è un libro straordinario perché anzitutto parla ovviamente del mondo è molto diverso da quello di Lucrezio perché ormai sono passati secoli e quindi lui quello che fa nella prima giornata sono quattro giornate nella prima giornata parla della luna come si vede la luna quali sono i movimenti perché la luna appare in questo modo eccetera eccetera e se la immagina non soltanto si immagina come si vedrebbe la terra dalla luna dice cosa succederebbe se io andassi sulla luna e guardassi la terra perché adesso faccio il contrario e ci sono cose simili e cose di simili molto interessante eccetera e leggere quel libro lì è un'esperienza straordinaria primo perché a differenza dei libri scientifici che verranno in seguito non c'è una formula Galileo era precedente al linguaggio delle forme sarà Newton che comincerà a usare veramente quel linguaggio e da Newton in poi purtroppo i libri di scienza diventano difficili da leggere perché sono per i matematici nel senso pitagorico cioè per coloro che apprendono il mestiere mentre invece Galileo scrive ancora per gli accusmatici per quelli che vogliono sapere come va il mondo e ma gliel'incolse perché infatti lui cercava di rivolgersi al volgo lo fece in italiano e uno dei capi d'accusa del processo a Galileo nel 1633 fu proprio questo di aver scritto in volgare perché tutti comprendessero quello era un atto di accusa e che naturalmente gli fece avere delle grane perché fu poi condannato al carcere a vita lui morì nel 1642 quindi nove anni dopo senza aver mai potuto più mettere piede fuori di casa fu chiuso nella sua tenuta di Arcetri nella sua villa di Arcetri vicina a Firenze e lì rimase ma quel libro è un libro straordinario appunto perché parla dei moti cioè si va oltre l'uomo non viene più considerato in Lucrezio sì ancora ci sono quei due libri centrali tra il microcosmo e il macrocosmo in cui c'è l'uomo la morte come vi dicevo l'amore eccetera nel libro di Galileo non c'è più questo c'è soltanto più la natura noi siamo diciamo così irrilevanti da questo punto di vista c'è il moto dei pianeti e così via c'è la difesa del sistema copernicano gli argomenti a favore della difesa del sistema copernicano e quelli contro invece il sistema tolemaico che era quello invece favorito dalla chiesa perché l'idea del sistema tolemaico è noi siamo al centro del mondo siamo noi il mondo è stato fatto perché ci siamo noi poi ci sono sulla terra tanti animali ma noi siamo sopra e possiamo fare cosa ci pare piace di questi animali così dice il genesi no tutto è stato creato per te fanno che cosa vuoi animali piante eccetera questa era una visione che oggi non va più tanto per la quale e dal punto di vista cosmologico fu copernico a buttarla giù anche se poi già i greci ci avevano pensato Aristarco prima di lui ma fu Galileo e Giordano Bruno perché la cena delle ceneri per esempio di Giordano Bruno è un altro piccolo grande libro di divulgazione scientifica non so se l'avete mai letto ma è un libro straordinario e che parla di scienza tra l'altro non parla di teologia certo uno intitola un libro la cena delle ceneri che vuol dire la cena del giorno del mercoledì delle ceneri ora persino oggi si sa che il mercoledì delle ceneri è il primo giorno della quaresima quando si comincia a far digiuno e se uno intitola la cena del giorno delle ceneri vuol dire che il digiuno se ne frega e le cose non vanno bene infatti quello gli ando male pure a lui molto peggio che a Galileo perché come sapete si è accese il cerino sotto il rogo a Campo dei Fiori però quelli sono libri di divulgazione del 600 se dovessi ancora consigliarvene uno negli ultimi tre minuti si diventa sempre più piccolo della serata e di uno che abbiamo già citato altre volte cioè Darwin l'origine delle specie di Darwin che è un libro che mette l'ultimo chiodo in questa croce che toglie diciamo così l'uomo dal centro del mondo perché Galileo l'ha tolto e Copernico l'hanno tolto dal centro dell'universo però uno poteva sempre dire vabbè non sarebbe al centro dell'universo ma su questa terra siamo noi che la facciamo da padroni e chi diede appunto uno dei colpi conclusivi fu proprio Darwin che spiegò invece in realtà come le specie si evolvono a partire da una specie iniziale la quale tra l'altro probabilmente è nata a caso dalla materia inerte ma nel momento in cui poi nasce questo processo per mutazione e selezione naturale che porta a questo proliferare delle specie lui ha questa grande immagine dell'albero della vita e noi siamo su un ramo di questo albero della vita certo siamo alla fine del ramo come tutte le altre specie che ci sono oggi prima ce ne sono state altre che hanno portato a noi ma anche gli altri sono il risultato dei loro predecessori ma due rami diversi non è che uno sia meglio dell'altro non è un pino l'albero della vita dove c'è il sommo di Natale come l'albero di Natale infatti quello si usa a Natale e si mette sopra la stella che saremo noi no è un grande albero anzi la metafora che Darwin faceva agli inizi era quella del corallo non era nemmeno l'albero della vita era il corallo della vita che cresce in maniera così completamente caotica e noi sì siamo da qualche parte ma non è che siamo meglio o peggio di quegli altri e così via e di nuovo ed è forse uno degli ultimi libri questa volta in biologia prima era in fisica fisica come ho detto da Newton in poi diventa difficile leggerla e diventa ci vogliono i divulgatori che la traducano non sono più gli scienziati che lo fanno in prima persona ma in biologia invece ancora nell'ottocento lo si poteva fare e Darwin scrive dei libri bellissimi ma questo qui l'origine delle specie è il libro che fa nascere la biologia moderna e di nuovo un libro in cui non c'è una formula si legge benissimo è un po' lungo naturalmente perché tutte e due sia i dialoghi che l'origine delle specie sono due tomoni di 500-600 pagine a seconda dell'edizione ma sono libri che vale la pena di leggere almeno una volta nella propria vita perché sono i fondamenti del pensiero scientifico moderno e se dovessi dirvi invece un libro di oggi che tra l'altro per finirla su Darwin notate che le cose non sono finite perché in realtà ancora oggi si discute dell'evoluzionismo ci sono teorie non scientifiche ma comunque ci sono teorie filosofiche e umanistiche che si oppongono all'evoluzionismo pensate per esempio al referendum che si è fatto nel 2005 sulla procreazione assistita che vedeva i due campi in lizza fra loro da una parte c'erano i nostri premi nobel italiani della medicina Dulbecco e Rita Levi Montalcini che erano i testimonial della legge a favore della procreazione assistita e dall'altra parte c'erano il nuovo papa e ne ho eletto Benedetto XVI e il cardinal Ruini ora è possibile che si faccia una decisione scientifica avendo da una parte due premi nobel della medicina e dall'altra parte un cardinale un papa questo vuol dire che le cose di cui parla Darwin sono tutt'altro che passate di moda certo risalgono a 150 anni fa 160 anni fa ma non sono ancora state digerite e nel 900 invece la grande rivoluzione è stata quella della genetica nel campo della biologia e forse e qui invece il libro che vi consiglio è quasi un romanzo praticamente ed è la doppia elica di James Watson Watson è stato colui che insieme a Crick ha scoperto questa struttura straordinaria doppia elica del DNA che tutti noi portiamo dentro ciascuna delle nostre cellule e sono passati ormai dunque era 53 quindi 70 anni il prossimo anno ma quello che Watson ha fatto più che fare un libro solo di divulgazione scientifica è stato straordinario perché la scienza è cambiata moltissimo dai tempi di Galileo di Darwin che erano persone isolate che facevano questi esperimenti questi studi la maggior parte della gente faceva altro oggi invece la scienza è diventata un'impresa collettiva sono quasi eserciti gli scienziati i laboratori i fondi di ricerca eccetera e Watson racconta la corsa anche al successo il fatto di dire voglio arrivare prima del mio collega voglio prendere il premio Nobel voglio scoprire io prima che tu scopra quello che stai facendo e se c'è qualcun altro che sta facendo le stesse ricerche magari vado anche a curiosargli nell'ufficio a strubargli le fotografie come lui fece con Rosalind Franklin eccetera e qui allora è straordinario perché si vede lo scienziato in azione che piacciono gli scienziati sono uomini quindi fanno quello che fanno tutti gli altri quando competono hanno i loro lati positivi e negativi le loro pulsioni le loro volontà di potenza e così via e Watson le racconta talmente bene che ad un certo punto lui io l'ho conosciuto abbastanza bene adesso in molti anni che non lo sento anche perché sta male eccetera è quasi 95 anni credo ma è il più grande scienziato vivente o quasi vivente ancora e lui raccontava certo che era quello che voleva dice io volevo prendere il premio Nobel cioè non è più tanto la verità che conta quasi ma è quello di arrivare prima degli altri e diceva che il suo libro ebbe un successo così grande che lui a un certo punto cullò la speranza che gli venisse dato il premio Nobel per la letteratura anche cioè prendere due premi Nobel cosa che è successa già quattro volte nella storia la prima volta con Madame Curie che lo prese prima nella fisica e poi nella chimica e soltanto quattro persone finora hanno preso due premi Nobel non glielo diedero però sicuramente quello è stato un successo da milioni di coppie che vale la pena di leggere forse dei libri che ho citato questa sera cioè Lucrezio Galileo Darwin e Watson è quello che si legge meglio è un romanzo che però racconta quello che la scienza è dal di dentro e vi dice anche che cosa effettivamente è stato scoperto che è appunto una delle grandi scoperte della scienza anche perché spesso parlando ogni tanto con gli amici nei festival eccetera qualcuno dice hai letto l'ultimo romanzo di Pinco Palla e non l'ho letto ma come diceva Troisi quelli sono tanti io sono solo come si fa i romanzi ne scrivono centinaia il problema è che se anche uno non ha letto una storia vabbè è una storia in meno che conosce ma è pur sempre una storia il problema invece è che quello che si scopre nella scienza primo è qualche cosa di reale cioè ci dice qualcosa di noi ci dice qualcosa del mondo che effettivamente ci sta intorno e poi soprattutto spesso sono cose che entrano direttamente indirettamente spesso molto direttamente nelle nostre vite oggi la genetica sta trasformando il nostro modo di vivere e se non sappiamo almeno qualche cosa di ciò che è di come è arrivato in essere di che cosa parla eccetera c'è il rischio che poi le decisioni le prendano altri a nostra insaputa io mi fermo qui perché non credo che voglio rimanere conciso e vi ringrazio per la vostra attenzione grazie a tutti grazie a tutti